eccomi 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 buonasera amici amiche rossonieri ragazzuoli e ragazzuole belle come dico sempre io buona serata di questo benedetto venerdì 16 giugno 2023 ore 18 e 56 allora amici amiche avete visto la copertina forse qualcuno di voi si è già allarmato da questa mattina da ieri sera non lo so però adesso state calmi perché i puntini di sospensione vogliono dire questo allora mike magnan e teo ornandez sono i pilastri del nostro milan ma la loro volontà cioè la volontà dei giocatori vuol dire molto è quella decisiva la loro volontà è quella decisiva adesso partiamo a razzo prima con le news che ci stanno intorno e poi parliamo di mike magnan e di teo ornandez allora ragazzi maldini sarà il futuro ds molto probabilmente della al haili la squadra araba arabia saudita dove gioca cristiano ronaldo e dove è stato licenziato rudy garcia tanto è vero che vi racconto un aneddoto rudy garcia ha fatto già iniziare a storcere il naso a molti tifosi del napoli calcio i campioni d'italia e bisogna dire che forse hanno ragione anche loro a storcere un po il naso perché c'è una bella differenza tra spalletti rudy garcia e quello che ieri vi avevo detto che sarebbe dovuto arrivare al napoli cioè galtier e come andrà rudy garcia al napoli non si sa insomma dall'ali agli a è stato praticamente cacciato dal campionato arabo dalla squadra di cristiano ronaldo sa che cristiano ronaldo è un po uno anche lui che vuole decidere le cose come andare fare il deus e smacchere sotto e menate però nel campionato arabo non vanno quelli che sono nel periodo della loro carriera vanno quelli che sono verso il finale della loro carriera comunque sembra che adesso il campionato arabo per candidarsi alle mondiali 2030 vogliono imbottirsi sempre di più gli sceicchi di campioni famosi noti con a suon di soldoni proprio per attrarre il pubblico però messi ha detto di no e se ne va a giocare a miami nella nella lega di calcio americana insomma messi in questo senso diciamo che secondo me ha fatto la forse la scelta migliore diciamo che dal dai sauditi messi avrebbe preso una caterva i soldi non so se avete sentito lo stipendio una roba da fuori di testa ma lui non ha scelto questo ha scelto di andare negli stati uniti a miami e questo tanto di capello perché quelli di miami non lo pagano quanto lo pagavano gli arabi strano che non è ritornato al barcellona secondo me non è ritornato al barcellona non dico una cattiveria ma un fatto di cronaca di tempo fa prima che lui andasse a pari san germain penso per problemi con il fisco spagnolo e ragazzi non è non è una cattiveria quello che sto dicendo e cronaca di quando messi se ne andò dal barcellona per andare al pari san germain ecco perché non va al barcellona anche se il presidente barcellona detto non capisco perché non venga da noi boh non so ma si vede che allora avrà risolto tutto faccio mi autocorrego però insomma in bocca al lupo a maldini per questa nuova avventura e devo dire anche qui ma voi avete letto di ibra di qualche messaggio di cordoglio per silvio berusconi buono solo non ho letto niente comunque ibra oggi ci ha lasciato un messaggio definitivo di addio al calcio e ha ringraziato anche il suo ex agente vi leggo le sue testuali parole non proprio tutto uno stralcio è iniziato con un sogno dice ibraimovic un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile sono nato a malmo cresciuto ad amsterdam diventato più saggio a torino sono diventato un leone a barcellona sono cresciuto a milano e ho avuto nuove prospettive a parigi ho guadagnato resistenza a manchester e mi sono divertito a los angeles e poi finalmente ho trovato la mia pace nella mia nuova patria ascoltate con attenzione la mia nuova patria a milano tutti quelli che capiscono veramente che l'impossibile non è niente grazie di tutto mino riferito a raiola ce l'abbiamo fatta la corsa è finita è stato un viaggio fantastico mi manchi e insomma speriamo ibra che ritornerai come dirigente al milan allora ragazzi adesso partiamo in tromba con le notizie che riguarda il nostro milan allora ve lo dico subito che tutti i prestiti se ne sono già andati dal milan compreso il nostro brain diaz e tutto il resto il milan educatamente ha ringraziato con un video brain diaz giusto perché noi siamo un club di signori anche troppo forse quando i brain diaz dice sì vabbè ho passato tre anni utili il mio sogno era ritornare al madrid va bene lasciamo perdere ragazzi io allora ve lo dico ve lo ripeto con tutto il cuore qui non è per smontare tutta la poesia di giocatori di giocatori come baresi maldini costa curta cioè cerchiamo di capirci non ce ne sono più oggi ma io non è che sto voglio sparlare di brain diaz brain diaz ha scritto queste testuali parole sul suo social grazie di tutto al milan non vi dimenticherò mai tre anni utili perché sei praticamente allenato il mio sogno era ritornare al real vamos su tutte le storie noi dobbiamo dire grazie ai giocatori che fanno un ottimo lavoro il nostro milan ci fanno vincere ma quando si capisce che il giocatore non è legato alla maglia ragazzi arrivederci grazie e tanti saluti cioè ficcatevelo nella zucca i tempi purtroppo sono cambiati uno di voi nel mio instagram privato anzi caro amico io ti ringrazio di questa riflessione che hai fatto breve ma molto intelligente te lo dico sinceramente il mio instagram privato ha scritto sotto un post una cosa veramente sagace una volta ha scritto questo mio follower una volta bastava essere in champions league per essere attrattivi oltre al blasone del milan adesso non basta più nemmeno quello non basta nel blasone e non basta neanche più essere in champions league i giocatori l'unica cosa che vogliono sono i soldi vedisi io potrei fare un esempio più pratico questo lo faccio io newcastle l'anno scorso vedisi tutto quello che ci insomma ragazzi proviamoci molto chiaramente ma avete capito cosa ha scritto questo mio follower avete capito bene il senso di questa cosa oggi non conta più essere in champions league contano solo i soldi un giocatore un giocatore rinomato c'è forte famoso e non giochiamo la champions league a orco no no io voglio giocare la champions ti do 30 milioni di euro di stipendio netti all'anno sì sì vengo subito ragazzi il calcio di oggi fa schifo diciamoci la verità fa schifo io lo dico anche tutti i giocatori che guardano dovessero guardare questo video non dico vi dovreste vergognare no perché voi fate il vostro lavoro dovete guadagnare il più possibile per comprarvi una ferrari la seconda ferrari la lamborghini la villa con la piscina il jet privato il motoscaffo e tutto quello che ha seguito giusto e ci mancherebbe fate un lavoro che è altamente remunerato perché è uno sport popolare e tutti noi vi seguiamo e vi amiamo però c'è un piccolo problema non fate moralismo specie che non è più il caso perché fate solo ridere i polli il calcio di oggi non è più il calcio di una volta voi che siete giovani se tu sei 18 anni 20 anni non avrai mai conosciuto non avrai mai conosciuto quello che era il calcio di una volta ma te lo spiego fatelo fatelo conoscere dal tuo padre se ha 40 anni se ha più di 30 anni se ha 50 anni 60 70 80 fatta questa mia che non è una paternale che non me ne frega niente questo è tutto per dire sono i calciatori che decidono tutto ragazzi è inutile star qui a parlarne più di un tot e faccio un'altra parentesi prima di parlare di magnan e teo hernandez il discorso è questo ragazzi i giornalisti hanno messo in giro la voce ma perché i giornalisti sono tante volte in combutta in sinergia con i grandi club che spendono soldoni perché sono i grandi club che mettono in giro la voce i giornalisti scrivono facendo da sponda al loro alle loro voci cioè il manchester united di turno che vuole teo hernandez piuttosto che altri club di premier il non so il real madrid di turno piuttosto che allora ragazzi le voci sono venute fuori è che mike magnan con quel post che ha fatto di saluto paolo maldini ha messo punto di domanda sulla i di milan lì forse lui essendo uno un po istintivo si è un po diciamo indispettito dell'abbandono di maldini insomma del licenziamento di maldini teo hernandez sembra pure lui sembra però fino ad ora non c'è nessuna certezza il milan non ha messo in vendita i ragazzi però è anche vero che con questa proprietà praticamente se arrivano 80 90 milioni di euro per magnan e più di 60 milioni di euro per teo hernandez questi li vendono hanno tutte e due anzi scusate sì no hanno tutte e due il contratto fino al 2026 allora mike magnan ha il contratto fino al 2026 e stava parlando con maldini per portarlo fino al 2028 e teo hernandez ha il contratto fino al 2026 se non mi ricordo male no giusto 4 milioni di euro netti teo hernandez più eventuali bonus e mike magnan è ancora fermo 2 8 che però deve essere portato a 4 e ne stava parlando appunto con maldini allora io adesso con questo non voglio dire niente però ragazzi parliamoci molto chiaramente se il milan non li obbliga a mandarle via lo ripeto ancora sono loro che devono decidere cosa fare del loro destino io li ringrazio sempre li ringrazio sempre ma in questo senso cosa devo fare se il giocatore dice bene arrivata questa offerta io faccio l'esempio con soliti ornandez il nostro motore perdiamo lui 50 50 no ma il 40 per cento della forza del nostro milan sarà un disastro ragazzi questo ve lo dico comunque io spero che teo hernandez rimanga ma non deve rimanere per fare un piacere da noi ma perché se affezionato i nostri colori vuol fare bene il suo lavoro ma lo se lui dice teo hernandez insomma quelli del manchester united e me hanno offerto 8 milioni di euro voi me ne avete dati quattro oppure me ne danno dieci ma il comagnano dice voi me ne offrite quattro me ne danno otto dieci se questi scelgono i soldi cosa dobbiamo farci noi la cosa grave l'unica cosa grave sarebbe che incassati i soldoni perché se fai 80 più 70 non so ti faccio un esempio totale mike magnan e teo hernandez 140 milioni di euro di incasso insomma se incassate questi soldoni non vengono reinvestiti in questo caso ci dovrebbe essere una lotta popolare del popolo milanista contro la proprietà una lotta feroce educata civile contro la proprietà per farli andare via dal milan questo è il minimo questo è il minimo ma se i nostri giocatori arrivano le proposte rifiutano le proposte comunque il milano le mette adesso in questo momento ci stiamo agitando per un nulla la cosa che invece oggi mi ha fatto più preoccupare poi vi saluto è per i diritti televisivi della serie a ve lo dico e questo io sono abbastanza preoccupato perché ci sono le trattative adesso private per la prossima serie a del prossimo anno 24 25 2024 25 trattative private con la lega tra con sky da zone e mediaset perché mediaset vorrebbe far vedere delle partite in chiaro cioè senza farci pagare però sapete per quanto per meno di un miliardo di euro allora la scorsa gli scorsi diritti televisivi per un miliardo e due adesso siamo scesi di cifra pensavamo che con questo campionato avvincente con il napoli campioni d'italia con tutto quello che è successo portava su i diritti televisivi invece una mazza ragazzi questa è una cosa che mi preoccupa qui si è praticamente qui si fa smontare tutta quella che la mia idea in cinque anni forse potremmo arrivare 4 5 anni come la premier questa è la cosa che mi fa preoccupare di più perché non avere abbastanza diritti televisivi vuol dire prendere di meno nelle proprie casse quando si arriva a primi secondi terzi o quarti e sono un po preoccupato ragazzi questi qua della lega secondo me se non riescono a portare a casa il risultato è meglio che se ne vanno a quel paese qui qui scoppierà una bombazza a livello di disastro economico della lega di calcio perché lo ripeto i soldi di diritti televisivi vengono spartiti fra tutte le squadre che giocano la serie a meno ce ne sono meno soldi vengono dati e questo è un problema ragazzi questo è un serio problema e la cosa mi ha fatto preoccupare di più forza mina sempre comunque ovunque se domani c'è qualche notizia interessante ci vediamo in video se no noi ci vedremo lunedì ve lo dico subito che la partita di ieri sera dell'italia contro la spagna è stata una roba che mi ha fatto ridere mancini eppure ha detto ho sbagliato forse modulo ma questo deve essere licenziato roberto mancini ma vergognati adesso stasera c'è la la francia che gioca con gibilterra c'è anche giro bisogna vederlo a proposito il guaio fisico di mike magnan nulla di grave al polpaccio destro è un po sfortunato sulla parte bassa ma comunque mando un grande abbraccio nostro magico mike forza mia sempre comunque ovunque ciao ciao ciao